chi ancora non l'avesse visto vi faccio un breve flash del lepron nuovo di malindi che questo qui ci sono alcuni aerei ma noi oggi andremo a vedere quel magnifico guardatelo lì in fondo non riesco a fare lo zoom ma è un Antonov oggi salirò a bordo per la prima volta